Io penso che se succederà veramente che i paesi della Nato cominciano a spedire le proprie truppe in Ucraina, a tutti gli amici italiani che non vogliono fare la guerra, io consiglio fare i bagagli e andare via proprio dall'Europa occidentale. Scappate via da qui, andate in Medio Oriente, in India, in Indocina, dove volete, ma non rimanete qua. Per quale motivo? Primo, è molto probabile che questa guerra, se entrerà in questa fase, ci porterà veramente verso l'utilizzo delle armi nucleari e questo sarà l'Apocalisse e il suo centro sarà qua in Occidente. Non saranno colpiti i statici d'America, sarà colpito l'Occidente, perché l'Occidente, l'Europa occidentale, perdonatemi, sarà scelta, è già stata scelta come un grande campo di battaglia per l'ennesima volta nella storia, è stata scelta da vari poteri per essere sacrificata a questa specie dell'ennesimo apocalisse che loro vogliono scatenare per delineare i loro poteri nel globo.